Ebbene sì, oggi faccio cent'anni, tanti per voi umani, e certo anch'io l'aula di Montecitorio in questo secolo ne ho viste. Parlo con voce maschile perché quasi sempre mi confondete con il palazzo che mi ospita, ma quello l'aveva progettato il Bernini secoli prima. E poi il primo giorno dei lavori, il 20 novembre 1918, donne tra i banchi non ce n'erano, arriveranno trent'anni dopo con la Repubblica. Intanto ne erano successe di cose e ne avevo viste di facce. Penito Mussolini, che il 16 novembre del 1922 parlava di me come un'aula sorda e grigia, di cui avrebbe fatto volentieri un bivacco di manipoli. Ci sarebbe riuscito pochi anni dopo, lo sappiamo. E uno dei suoi pochi avversari veri, quel Giacomo Matteotti che il 30 maggio 1924 denunciò i brogli elettorali del regime fascista e pagò con la vita. Quanti ci hanno vissuto qui dentro? E qualcuno ha cominciato a morire, come Beniamino Andreatta. vita e morte, sangue e lacrime, lacrime di rabbia e di gioia. Sono scorse a fiumi sotto questa volta luminosa, per proclamare la Repubblica o anche solo una nuova legislatura o un Presidente della Camera. Mi ricordo i volti seri e festosi il 22 dicembre 1947, quando è stata approvata la Costituzione. Mille e mille facce, alcune indimenticabili. De Gasperi, Togliatti, Saragat, Nenni, i vecchi leoni della Prima Repubblica, ma anche un giovane Giulio Andreotti che ci passerà una vita qui dentro, l'uomo di palazzo, il divo. Ma accanto figure più grandi e più tragiche, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, quando c'era la Repubblica dei partiti e qui ogni giorno si scontravano e si incontravano. L'hanno sempre fatto, anche ai tempi di Craxi ed Emita, di Berlusconi e Bossi e Prodi, giù giù fino a Renzi e Salvini e ai Grillini. Europa, scuola, lavoro, diritti civili, tutto è passato da me e molto è diventato legge e costume. Poi qualche deputato ha cominciato a indossarlo il costume, a fare il buffone davanti alle telecamere. È il regime della diretta, nessuno più bada ai discorsi che si fanno qui dentro, le cose importanti si dicono altrove, altrimenti. Mi chiamano l'aula, ma sono stata molte cose in questi cent'anni, tempio e circo, laboratorio e museo. Ce ne saranno altri cento? Fatemi gli auguri, ne ho bisogno.